In questo laboratorio noi faremo, voi farete, attività di disegno tecnico. Cosa userebbe per fare il disegno tecnico? Per gli attrezzi che avete sul banco. Il spadente, il compasso, la matita, la gomma e il foglio. Nel disegno tecnico si inizierà con le figure gioceregiche. Siccome non vorremmo farvi fare cose semplici semplici, Oggi facciamo, voi disegnerete, quella figura lì che è l'Esadono. Una figura che ha serati.